Il Circolo Arci Artigiana di San Lazzaro è diventato una sede politica dei partiti di estrema sinistra. È l'accusa di Antonio De Sena, uno dei soci, che chiede di far chiarezza sul cambio di gestione avvenuto, secondo alcuni, a tradimento. Cioè con una poco chiara campagna di tesseramento, dove ai già gestori del Circolo fu chiesto di riconsegnare le tessere perché lo stabile di proprietà del Comune regolato con un comodato d'uso avrebbe chiuso i battenti. Qualcuno ha richiesto di poter entrare, però lei ha detto no, siccome chiude le chiavi le do al Comune. Invece cosa hanno fatto? Hanno fatto riconsegnare i soldi indietro e le hanno ridato le tessere, i vecchi soci, e le chiavi sono passate direttamente all'Arci. Da l'Arci, passate Mascaren e l'Ornella di Pesolo, si sono appropriati di questo circolo. La mattina dopo sono andato giù a vedere, ma cosa fate voi qui dentro? Ha detto, ah, io sono il Presidente, io sono il Consigliere, ma chi va votato? Ha detto, noi, ma come noi? Non abbiamo fatto nessuna assemblea, nessuna riunione, non abbiamo fatto niente. Dalla sera alla mattina abbiamo fatto tutto loro, capito? Siccome il Circolo è rimasto senza soci, si sono appropriati subito. Quindi voi avete consegnato le tessere pensando che questo circolo venisse chiuso, in realtà il giorno dopo c'era già qualcun altro dito. Sì, perché le chiavi devono essere consegnate al Comune, invece di essere consegnate all'Arci di Pesolo, all'Arci di Pesolo, siccome Mascareni lavora l'Arci di Pesolo, gli servivano a sede per un centro sociale, hanno preso subito l'artigiano al balzo. Il signor Antonio sottolinea inoltre che l'articolo 1 dello statuto dell'Associazione identifica il Circolo come apartitico. E lei questo statuto ha provato anche a richiederlo? Io una volta l'ho richiesto e non me l'ho andato, non è che dovevo studiarlo a memoria, capirà, da due minuti mi scordo quel codetto, poi ricordiamo un statuto tutto l'icona. E quindi adesso che cosa succede? Siete fuori, non potete ritornare ad essere dei soci? I soci ci possono andare, ma siccome non gli piace l'ambiente, perché il Circolo è il nostro, 150 anni di storia c'ha, e ne è dei mascherini, dell'ornella di peso che loro si sono appropriati, perciò loro andate via, se non vanno via portiamo tutto. Su questo argomento il consigliere comunale di Progetto Fanno, Alberto Santorelli, ha presentato un'interrogazione che verrà discussa mercoledì 9 settembre. A sindaco e giunta verrà chiesto se ritengano giusto, corretto, democratico e civile che un Circolo come l'Artigiana, dopo 150 anni di storia, debba essere improvvisamente chiuso e gestito da pochi e per pochi e marginando, scrive quei soci che vi hanno dedicato lavoro e sudore.